L'uscita dai due distretti turistici era un atto dovuto, moralmente giusto, economicamente indiscutibile. Sono le parole del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Davide Brugaletta, che a una settimana dall'approvazione del Consiglio Comunale della delibera di giunta che prevedeva l'uscita dai due distretti turistici, quello degli Iblei e quello del Sud-Est, torna sull'argomento per asserire la sua soddisfazione in merito. Secondo il consigliere pentastellato, la maggioranza ragusana ha segnato il passo realizzando un risultato importante per il territorio. La discussione in merito all'uscita dai distretti nasce in seno alla giunta ragusana, dalla polemica contro i distretti turistici stessi, definiti da più parti nei mesi scorsi dei carrozzoni mangiasoldi, autori di sperperi di milioni di euro senza nessun beneficio per il territorio. Questa la denuncia di Brugaletta, che ritiene opportuna la scelta dell'amministrazione di uscire dai distretti mettendo fine a quello che definisce uno spreco imbarazzante di denaro pubblico. Brugaletta punta poi il dito contro il distretto turistico degli Iblei e una gara d'appalto finanziata dalla regione per quasi 800 mila euro, di cui poi non si è più avuta notizia. Il consigliere snocciola come sono stati spesi quei soldi e spiega che ben 42 mila euro sono serviti solo per analizzare l'offerta turistica. Più di 141 mila euro sono stati impegnati per concepire la carta di valorizzazione del territorio e quindi la politica territoriale di sviluppo dell'offerta integrata. La messa a regime di questo impianto, una dicitura che significa tutto e niente, è costata poco meno di 139 mila euro, mentre sono stati spesi 421 mila euro per la promozione turistica. Per promozione si intende la realizzazione di un banalissimo sito web, dice Brugaletta, costato non qualche migliaio di euro, bensì 81 mila euro. 68 mila euro sono serviti per l'ufficio stampa, mentre 84 mila euro sono stati spesi per la produzione di materiale editoriale. Sono stati realizzati dei video promozionali per il progetto Enjoy Life, poi caricati su YouTube, perciò visionabili a tutti gratuitamente, ma con pochissime visualizzazioni. Mi piacerebbe entrare in possesso di una rendicontazione un po' più dettagliata, in fondo parliamo di denaro pubblico, sancisce Brugaletta. Chi gli ha spesi quei soldi che realmente ha goduto di questo fiume di denaro? Il video turistico realizzato da questa amministrazione, spiega il consigliere, costato poco più di 5 mila euro, da gennaio ad oggi è stato visto da 85 mila persone su Facebook e 6 mila persone su YouTube. Il paragone dovrebbe far impallidire tutti. Mi spiace invece dover constatare, dice Brugaletta, che gli unici a non impallidire sono proprio gli esponenti di questa opposizione, che inspiegabilmente gridano allo scandalo, disperati perché con queste recessioni Ragusa perderebbe un'importantissima occasione di crescita e di sviluppo.